L'aspettavo io, l'aspettavo la mia famiglia, tutte le persone che vogliono bene, lo staff, la società, la Roma e poi soprattutto è servito per la vittoria, per il passaggio del turno, quindi sono felicissimo. Ora dobbiamo continuare così, siamo sulla strada giusta, allenamento dopo allenamento e a migliorarci sempre di più perché quest'anno potremo dire la nostra. Ci dici che cosa ti è passato per la testa dopo il gol? No, è passato tante cose, è difficile anche spiegarle adesso, tutti i momenti bui, tristi, come dicevo prima venire allo stadio per un anno e mezzo e vedere i miei compagni che giocavano, io in tribuna, è stata dura, è passato e con questo gol posso dire di aver scacciato via tutte le ombre che avevano passate e di iniziare un nuovo inizio. All'inizio di una stagione che già iniziava molto bene, tre vittorie consecutive, il tuo gol è il migliore presupposto per andare avanti in una squadra che sembra già molto cresciuta rispetto a tre gare fa? Sì, sì, guarda, ci alleniamo sempre con lo spirito giusto, con la felicità di andare al campo, siamo un grande gruppo, siamo tutti fratelli e questo penso che sia importante. Poi in campo tutti abbiamo qualità, giochiamo nella Roma e quindi le mettiamo in atto. Il mister poi ci inculca sempre il suo metodo di giocare e piano piano lo stiamo imparando. Certo, bisogna ancora migliorare ma siamo ancora giusti.